ciao dolcezze, ciao a tutti, nuovo video tapping in cucina, ho le persone chiuse quindi accendo la luce voilà, le luce fu, allora vediamo dove posso fare il tapping, proviamo adesso anche senza farmi vedere sentite un po' di suoni, ok? ci provo non so se vi piace il suono di questa pentola, proviamo sulla scatola di carta su un cassetto di plastica, sulla porta del forno sul vetro del forno anche se non lo vedete è meglio però è vetro, poi vediamo un po' il tapping e scratching sul barattolo del sale poi su un coperchio qua, coperchio di vetro per una padella ok? 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 google ok? 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 ma legga le unghie e farà il tapping sul vetro perché ho le unghie corte in questa mano poi proviamo su un mobile laccato vediamo se alzo l'inquadratura se mi vedete se non cade il telefono perché ce l'ho appoggiato senza cavalletto ecco questo è il mobile laccato qui questo è il mobile aperto e laccato bianco barattolo su questo coperchio il tapping mi piace spero piaccia anche a voi perché il tappo non è di vetro è di latta credo è il barattolo di vetro fa un bel suono poi l'origano proviamo dell'idol poi su un bicchiere di vetro posso farvelo vedere che qui ho i bicchieri per la festa per le feste questo è il bicchiere regalato alla mia nonna con l'ancora però tutta roba di vetro fa sempre lo stesso suono mi sa non so se va bene questo video spero che vada bene grazie Sara P che me l'hai richiesto bello rosso e blu mi piace tantissimo mobile lo chiudiamo ok voilà questa è la padella ve la faccio vedere sul gas non è pulita voilà padella enorme regalata alla mia madre è gigantesca ok vedete voilà è dentro all'interno facciamo il tapping facciamo il tapping anche sul coperchio che è diventato tutto un po' giallo furia di lavarlo nella vastoviglia non va bene vediamo se si sente qualcosa se vi piace questo video spero mi viene bene lo scratching ma l'ho già fatto lo scratching l'ho già fatto la mia madre ne ho tante di tazzine da caffè anche se il caffè non lo bevo è carino caffè porbone una ciotola nera dell'Ikea questa non so se in ceramica tutto ceramica e vetro le cose che ho in casa sono fragili bella spero che non sia troppo forte ragazzi il suono eh non so più cosa farvi vedere cosa farvi sentire il mobile mobile dove c'è il sale il barattolo del sale di legno compensato dell'Ikea il forno a microonde dell'idol l'ho regalato da mia madre rosso facciamo un po' di tapping sopra a questo elettrodomestico 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 poi c'è solo più il lavandino e la stoviglia non c'è più nient'altro in cucina e la stoviglia non c'è più nient'altro in cucina i mobili della cucina sono tutti dell'Ikea questi sono i suoni della mia cucina perché non c'è molto da farvi sentire da farvi vedere soprattutto non c'è niente la cappa aspiratrice sul gas ovviamente batte forte sono suoni forti ho acceso la luce della cappa e non so cos'altro farvi sentire o farvi vedere perché non c'è nient'altro ragazzi le piastrelle della cucina adesso vi saluto a presto